musica 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 addio si sono stato un po' avventato qui eh onestamente però oh yeah esci fuori da bravo musica 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 abbassati c'è un comandante che rompe i maroni da qualche parte vorrei capire dove sta sto quasi a secco di munizioni merda ecco era questo il comandante credo eh brutto bastardo eh chiamavi rinforzi chiamavi eh armatura proprio mi serve grazie mille un po' poca prime gusti ma ci si accontenta come si vuol dire ci sono altri sento ancora la musichetta molto action quindi ovviamente non sarò a leggere tutti gli articoli di giornale perchè sono un bel po' quindi magari pausate se volete leggerli e ve li leggete ok basta pausare il gioco armatura qui c'è ancora qualcosa a raccogliere thank you ehm devo prendere questo mezzo per caso per scappare no eh dov'è il mio obiettivo non ne ho idea qua c'è ancora qualcuno vivo da qualche parte che altrimenti la musica sarebbe finita musica molto molto action ehm il mio obiettivo è di lì a quanto pare si è tipo tipo questo devo fare qualcosa con que ah sopra forse aspetta devo andare su poi si saliva qua c'era una scala a qualche parte lì vai sali ok ok andiamocene tipo qua il mio obiettivo sembrerebbe stare qui sopra a quanto pare questo è un pannello di controllo si ok 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 molto buio qui l'angoletto proseguire salute 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 thank you very much guarda che c'è di bello uh elmetti a iosa e con a iosa intendo due elmetti eh eh così messi lì che mi danno un totale di 26 di armatura con quella che già avevo prima oh wow pulisci la sezione ovest ok 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 ci penso io carissimo tranquillo è la mia specialità sparare nazisti eh eh and one la 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 andiamo a fare una bella passeggiatina stilt sotto la pioggia così in allegria proprio qui se volessi andare tipo all loud and proud tipo che volessi fare tipo un casino bestia potrei prendere questa mitagliatrice e cominciare a sparare su tutti quanti però per esperienza so che non è l'idea migliore perchè poi ti vengono tutti addosso e non è e probabilmente non è sicuro che sopravvivi quindi se è possibile è preferibile insomma prima 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 di farsi scoprire farne fuori un po' così si diminuisce la possibilità di crepare almeno almeno quello ok ho fatto fuori tipo 3 o 4 già la 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 sono un'ombra nella notte mhahaha nessuno mi vedrà nessuno mi vedrà finchè non mi vedranno eh già qualcuno ha messo delle razioni dentro alla tazza del water ok sembra il posto migliore soprattutto il posto più igienico per metterla giustamente chi non lo metterebbe mai nella tazza del water giustamente eh che carino bobby addio bobby tra l'altro questo è uno di quelli ancora più powa quelli tipo con la mascella killer meno male che l'ho ucciso questi negli anni 40 c'erano solo versione norme adesso che hanno fatto anche versione miniaturizzata diciamo addio e il commander non c'è più puro 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 non posso prenderli ah però questo ha la pistola quindi dammi qua grazie mille un po' di proiettilini per me vi mangio tutto quello che vi starate per mangiare thank you coltello non mi serve grazie qui c'è il cibo per il cane cibo per il cane lo mangia sempre quello non si rifiuta mai diciamo anche se le altre cose non le raccoglie quello quello sempre diciamo quello è proprio un must il cibo per il cane dunque granate quello lì thank you ci sono dei coltelli messi lì sotto non si sa per quale motivo ma non ci importa non ci importa raccoglie lì non posso documenti thank you qui fucile che non mi serve grazie mille grazie lo stesso grazie lo stesso e niente libro orazioni o qualunque cosa sia non ne ho idea caldaia vabbè niente avanziamo il mio obiettivo da che parte sta? io sto sembrerebbe che sia qui sopra forse c'è un modo per salire perché dentro non l'ho visto nessun obiettivo che poteva essere ok saliamo sopra se non sta dentro sta sopra in teoria infatti devo tipo calarmi da quella da quella simpatica feritoia lì può darmi l'armatura prima grazie mille sempre esplorare sempre esplorare se avete la pazienza per farlo ovviamente se non ce l'avete vabbè un po' diciamo fatti ostri come si suol dire no beh eeeh che devo fare? cioè qual'è il mio obiettivo? l'obiettivo non me li dice devo fare qualcosa qui dentro che mi sfugge però oh qualcuno mi ha sfuggito anche prima dice che il mio obiettivo è qui dice che sta più verso il centro tipo in quest'altra stanza di qua cos'è? cos'è che devo fare qui dentro? fammi capire non ne ho idea eeeh cioè la mia unica idea è che potrebbe stare sopra ma mi sono andato sopra ma non è cambiato nulla perque e andiamo sopra di nuovo a vedere perchè qualcosa mi sfugge evidentemente ma non so cosa forse non ho ucciso tutti i nazi ancora o forse c'è un modo per salire lì non sembrerebbe qualcosa oh mi dice di andare qui dentro e praticamente io qui dentro mi sono dimenticato di raccogliere qualcosa non ne ho idea scusate ma veramente non capisco non ci arrivo a capirlo mi sfugge qualcosa ma non so cosa ci sono le radio per comunicare chiamare rinforzi e roba varia ma io non devo chiamare rinforzi ovviamente che si sia buggato il gioco no più facile che mi sia buggato io quindi ah in questa stanza che diavolo c'è da fare che mi manca quello è morto voglio dire qui c'è una specie di caldaia potete vedere gli obiettivi non so qual è il controllo no continuiamo a esplorare qui intorno boh non ne ho la più palida idea lì c'è un altro palazzo ah beh devo uscire i tedeschi a zistoni mi sa che quella parte dove giro lì dentro tipo per un quarto d'ora la taglio perché altrimenti ultra mega noioso se l'ho lasciata vuol dire che mi sono dimenticato di tagliarla quindi le mie scuse ma insomma ah era rimasto solo uno ok era rimasto solo quello sono all'automobile perfetto dov'è l'automobile qua c'è una stanza segreta tipo in cui entrare o qualcosa di simile non ne ho idea si apre dall'altro lato come si fa ad entrarci oh 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 no potete averlo trovato invece evidentemente il periodo di dover entrare da lì o da qui forse più probabile vabbè chi se ne frega torniamo all'auto ha perso già troppo tempo a cazzeggiare let's go ciao nonna ora andiamo da questo luogo oh merda merda oh merda oddio perchè sono arrivati i team mille se non premio le palle cos'è robocop cristo io mi nascondo qui dentro se non mi dispiace che c'è c'è chi